Benvenuto! Oggi siamo in Centra Montecavolo perché vi voglio far vedere questo appartamento all'ultimo piano con ascensore, comodissimo ai servizi. Andiamolo a vedere! All'interno dell'appartamento troviamo un'ampia zona giorno con cucina vista. Mentre invece nella zona notte troviamo due camere da letto e un bagno. Per ulteriori informazioni o visite potete chiamare questi numeri oppure venirci a trovare direttamente in agenzia. A presto! a presto!